Questa volta, nell'arco della scuola di parpsicologia, noi abbiamo una lezione sulla medianità. Noi andiamo a comunicare con le persone che ormai non sono più in vita. Non è un percorso per tutti, perciò qualcuno si possa sentire bene facendo questi esercizi, per qualcuno le energie possono essere anche più pesanti, ma niente, dovete proprio capire se è un percorso adatto per voi o meno. Lavoreremo sempre con il cuore, con il nostro amore e con il rispetto verso il mondo spirituale e per le persone soprattutto che hanno perso qualcuno nella vita, proprio per questo, per aiutarli a riprendersi dal luto subito, cercheremo di portare a loro il messaggio del mondo spirituale in modo più amorevole possibile, dando così tante evidenze perché la persona del mondo spirituale vuole essere più pesante. Ci sono tre modi in quali possiamo percepire la presenza dei trapassati. Essere un medium, essere un sensitivo o essere un guaritore è sempre un grande lavoro su se stessi. E' assolutamente, dobbiamo costruire la nostra energia, tenerla pulita, tenerla così forte, per poter svolgere il nostro lavoro al 100%, andando sempre più in profondità e alla perfezione di quello che stiamo facendo. Certamente all'inizio molte persone, è normale, non riescono subito a costruire questo rapporto con il mondo spirituale, ma è uguale quando cercheremo di imparare a suonare il piano. Cioè non possiamo subito sedersi e fare una suonata di Beethoven. Dobbiamo imparare le note, dobbiamo capire come mettere le mani sul pianoforte, eccetera. Cioè sempre possiamo fare sbagli perché non impariamo le note a memoria. E qua è la stessa cosa, perciò dove ci sono sbagli è una cosa buona. Va bene, impariamo anche attraverso i nostri sbagli. Ok? Qua siamo tutti uguali, siamo tutti allo stesso livello. Chi sa un po' di più, cercate di aiutare a coloro che magari non sanno ancora, o sanno meno. Perciò siamo un gruppo e insieme con questo gruppo dobbiamo creare tale energia dentro il quale possiamo lavorare tranquilli, sereni. Perché non dobbiamo sforzarci a fare questo tipo di lavoro, perché è una cosa naturale. E più ci sforziamo, più perdiamo energia. Più riusciti a essere sciolti, sapendo che siamo tutti allo stesso livello, perché l'unica differenza c'è che qualcuno magari ha fatto più esperienza che le altre, basta. Però alla fine il funzionamento di medinità è sempre lo stesso a tutti. Ok? Allora, per costruire l'energia giusta, per prima cosa noi dobbiamo capire, infatti, come la nostra energia e quanto dobbiamo imparare a rafforzarlo. Anche io, nonostante sei anni che faccio questo lavoro, ho bisogno anche dei miei mentori, delle persone che hanno ancora più esperienza nella mia. Perciò imparando dai medi che hanno 30-40 anni di esperienza, per me è un onore. Perché anche io a volte sbaglio. Tutti possiamo sbagliare perché siamo esseri umani, è una cosa normale. Ci sono delle giorni quando possiamo non sentirci bene, quando ci sentiamo, magari qualcuno è molto lunato, chi sente la luna piena e allora in questo giorno lavora, si sente proprio scarico. Altrimenti ci sono giorni quando dici, aspetta, qualsiasi cosa che faccio mi va alla grande. Le donne, noi abbiamo sempre i nostri cicli, le nostre cose, anche questo dipende, che umore abbiamo, a che punto siamo, se abbiamo dolore, eccetera. Perciò dipende sempre da molti fattori. Allora, se non riuscite a fare in un giorno, magari perché è solo una giornata storta per voi, il giorno dopo riuscirete a fare tutto alla grande, ok? L'importante è che sapete che nessuno deve fare con la pressione, e che nessuno cerca da voi subito evidenze forti, eccetera. Proviamo, proviamo qua per sperimentare. Poi la seconda giornata, quella che facciamo il mese prossimo, sarà dedicata per rafforzare ancora di più le vostre visioni, le vostre percezioni, e faremo anche uno sperimento molto particolare, uno sperimento paranormale, proprio per vedere come il mondo spirituale entra in contatto con la nostra energia fisica, e possono succedere dei fenomeni come il spostamento degli oggetti, eccetera. Così vedrete ancora di più diverse modalità con quali si può lavorare con il mondo spirituale. Anche la guarigione, lavoreremo anche con la guarigione, perché il mondo spirituale è così generoso, che ci aiuta molto a... che ci dà queste energie così potenti, che possiamo fare autoguarigione, o portare guarigione anche alle altre persone. Ci sono diversi tipi di medianità, anche quella in trance più profonda. Quella medianità che sappiamo fare noi, sapremo fare noi, vuol dire che noi saremo sempre in stato alterato di coscienza, però che la portiamo un po' a... la nostra mente sarà comunque sveglia. Vi succede che l'anima vede il nostro corpo? No. Allora, nessuno spirito mai possiede il vostro corpo, perché il vostro corpo è già occupato del vostro spirito, ok? E non c'è spazio per l'altra entità. Unica cosa che può succedere in queste case, quando il trapassato, o l'entità con quale volete parlare, si avvicina troppo verso di voi, avvicina proprio tanto così, e allora potete sentire ancora più forte la sua presenza, come fosse entrato, ma non entra nessuno mai, perché non stiamo parlando né di spiriti possessori, né dei mondi inferiori, non lo so, a parte che non credo molto in queste cose, io lavoro sempre con l'amore, con la luce, portando l'amore da un mondo all'altro. Perciò lì, quando lavorate con questo intento, non vi potrà succedere niente, e nessuno potrà mai venire per darvi un, per parlarvi in modo cattivo. Ci sono spiriti, alcuni spiriti trapassati con brutto carattere, questo potrebbe capitare, e percepite, mamma mia che carattere ha, però non sono malvagi, sono proprio, rimangono lì, uguali come erano, come quando erano le persone, perciò se una persona aveva quel carattere un po', un po' brutto, anche nel mondo dello spirito, rimane sempre così, per essere riconosciuto, se no come facciamo a riconoscere? Perché quando arrivano queste persone, io dico a qualcuno interessato, ecco qua ho una persona, sento un uomo, ma lo sento veramente, ho un caratterino, dice, oh sì, lo conosco, questo è il mio zio, mamma mia, che carattere che aveva, e così sarà subito riconosciuto, perciò è la sua caratteristica, molto evidente. Ammere, lì ha letto così, a fin certi? Possono essere diverse spiegazioni, a quello che ci succede di notte, può essere che la nostra anima, ovviamente, dalla volontà di comunicare, va a trovare il mondo spirituale, dove trova coloro, con chi vuole parlare, altrimenti può essere, che il mondo spirituale, entra nella nostra anima, mandando il segnale alla nostra anima, mandando qualche immagine, però non tutti quanti, possono entrare nel sogno, perché come ho detto, anche i spiriti, hanno il loro carattere, e la capacità di apprendere, come funziona adesso, la comunicazione con il mondo fisico, con il mondo spirituale, con il mondo fisico, ci sono quelli migri, che diranno, no, non ce la farò mai, entrare in contatto, con il mondo fisico, come sappiamo, come facciamo noi, no, non ce la faccio mai, fare contatto con il mondo spirituale, anche lì, ci sono le persone così, ci sono quelli, che si impegnano, per imparare, come entrare in contatto, e anche questo, e anche, entrare anche nei sogni, perché è un altro tipo, di energie, che loro devono imparare, a utilizzare, come anche, non tutti i spiriti, lavorano con la medianità fisica, con le di spostare oggetti, non tutti sono capaci di fare, non tutti hanno energia adatta, come neanche tutti i medium, qua, sono uguali, quelle che magari hanno energia adatta, per fare medianità fisica, e quelle che magari, non hanno questo tipo di energie, possono fare benissimo, la comunicazione, ma non riescono a spostare oggetto, perché non hanno, quella spinta, e quella carica, allora, questo tipo di medianità, che facciamo adesso, è la medianità, di un cuore, perché abbiamo bisogno, abbiamo noi, il cuore, qua, anche nel modo dello spirito, se sono rimasto, se sono diventato, soltanto spiriti, io credo, che anche voi, ci danni nel cuore, perché hanno i sentimenti, e noi possiamo percepire, i sentimenti, fantastici, allora adesso, facciamo la prima prova, per, non vi faccio subito fare esercizio, ovviamente, dobbiamo imparare adesso, a costruire la vostra energia, a costruire la vostra energia,